Signora Luana, allora vogliamo raccontare cosa è successo sabato sera, eravate seduti a cena e cosa è accaduto all'improvviso? Sì, eravamo seduti a cena, in pratica eravamo con dei bambini, con sua figlia e niente, non ci siamo accorti di niente. Avevamo aperto una bottiglia dell'acqua, però non ci siamo accorti di niente. Poi ieri pomeriggio, cioè ieri a pranzo, stavamo mangiando e mi sono accorta che nella bottiglia galleggiavano qualcosa. Sono andata a vedere ed era una capsula, penso di un medicinale, non so che cosa. Cosa avete fatto poi? Siamo andati dai carabinieri e i carabinieri ci hanno detto di andare dai NAS, quindi stamattina siamo andati dai NAS e ci hanno detto che faranno la verifica su quello che c'è in questa bottiglia, analizzeranno questa capsula e vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Voi non vi eravate accorti subito che nella bottiglia c'era questa capsula e l'avete aperta poi? No, assolutamente no, evidentemente forse questa cosa che c'era dentro si era fermata nel fondo e quindi non ce ne siamo accorti. Poi nel momento in cui evidentemente prendendo la bottiglia, sai, usandola, questa cosa si è staccata e è venuta a galla. Avete versato dell'acqua poi nel bicchiere? Sì, sì, sì. Parliamo di una bottiglia d'acqua che avevate acquistato in un supermercato in un blocco da sei. Sì, 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 esattamente. C'è stato un po' di spavento quando avete visto questa capsula nell'acqua? Beh sicuramente, anche perché io pensavo che fosse, sai, che ne so, cioè che poi è anche una cosa, cioè proprio che non può succedere, sai, ho detto un pezzettino di pane, invece poi quando ho visto che era una capsula mi sono spaventata perché ho detto porca miseria, ho detto possibile in una bottiglia d'acqua che poi l'acqua si deve bere perché fa bene e cioè ci troviamo queste cose.